Rilanciare la medicina sul territorio, con la crisi sanitaria che non accenna ad attenuarsi dal sindaco di Venafro Alfredo Ricci un ragionamento sulla opportunità, barra necessità, a seconda dei punti di vista, di potenziare gli ospedali periferici della regione. In una fase in cui nei nosocomi di Campobasso, Termoli e in parte Isernia si trattano pazienti covid, puntare sulle strutture di Agnone, Larino e Venafro per tutta una serie di prestazioni sanitarie non covid, spiega Ricci, garantirebbe l'assistenza sanitaria a tutte quelle persone affette da patologie più o meno importanti che, a causa della paura del contagio, non entrano in ospedale e quindi non si curano. In gioco c'è la garanzia di un effettivo diritto alla salute, rimarca il sindaco e presidente della provincia. Quello che è essenziale in questa fase è la presenza della medicina sul territorio e quindi in un momento in cui le strutture ospedaliere maggiori, e parlo di Campobasso, ma stiamo vedendo sempre di più ormai anche Termoli, spero non succeda anche su Isernia, sono impegnate sul fronte covid, credo che sia assolutamente necessario prevedere e rendere funzionali delle strutture che possano garantire i servizi ordinari, i non covid e rispetto a questo penso che Denafro, ma anche Larino e Agnone sono dei riferimenti essenziali, altrimenti il rischio che si corre, e lo stiamo vedendo, ma lo vediamo noi sindaci tutti i giorni stando sul territorio, è che i cittadini per la paura di regarsi in ospedale continuino a trascurare le patologie ordinarie. Ecco, io credo che allora sia importante in questo momento rilanciare la medicina sul territorio, su questo fronte, se penso a Venafro, noi abbiamo avviato ormai dall'estate scorsa un'interlocuzione insieme al Comitato con Asrem per garantire alcuni servizi al Santissimo Rosario. Molti servizi sono stati avviati nell'immediatezza del periodo post lockdown e tuttavia soltanto per piccoli passi. Credo che sia il momento invece di puntare decisamente su queste strutture cosiddette minori, che in questo momento possono garantire in maniera forte il diritto alla salute di tutti i cittadini, non solo dei cittadini di Venafro, di Agnone o di Larino, ma dell'intera regione. Credo che su questo sia arrivato il momento allora di dare anche un po' una sveglia e di accelerare su questo fronte, altrimenti ce ne pentiremo perché non è un problema campanilistico. Io lo dico da anni, ma adesso ancora di più, è un problema di diritto alla salute di tutti i cittadini della nostra regione.